Dal 2 al 5 dicembre sarà possibile fruire in versione streaming dei contenuti della seconda edizione di Archeocineman, una manifestazione tenuta insieme al MAN ad Archeologia Viva e diretta da Dario Di Blasi. Tanti i film proposti dedicati all'Egitto, a Pompei, a Gladiatori e soprattutto ad una panoramica mondiale delle novità assolute nel campo dell'archeologia. Io sono particolarmente contento che riusciamo a raggiungere il pubblico con questo festival, con queste opere cinematografiche dedicate all'archeologia. Capirete in periodo di epidemia non sarebbe stato possibile e quindi è un contributo che diamo anche al cinema, non solo all'archeologia. E' un contributo che diamo ai musei e non solo, come ripeto, all'archeologia. I musei hanno bisogno del pubblico, il pubblico ha bisogno dei musei e speriamo in questo modo di averli avvicinati.